la strada si inerpicava pian piano in mezzo alla foresta di Aitona sulle nostre teste altissimi abiti allargavano una volta gemente emettendo una specie di lamento continuo e triste mentre sia a destra che a sinistra i loro tronchi sottili e dritti formavano un'armata di canne d'organo da dove pareva uscire la musica monotona del vento tra le cime dopo tre ore di buon cammino la folla di quei lunghi fusti vicini tra loro si diradò ogni tanto un pino di dimensioni gigantesche isolato dagli altri e aperto come un ombrello enorme sfoggiava la sua cupola verde cupo poi all'improvviso eccoci alla fine della foresta qualche centinaio di metri sotto la gola che porta alla selvaggia vallata di Niolo sui due picchiaguzzi che dominano questo passo qualche vecchio albero deforme pare salito sin lì faticosamente come esploratore in avanscoperta su una folla mucchiata dietro appena voltati scopriamo tutta la foresta distesa sotto di noi come un immenso catino verde i cui bordi che sembra tocchino il cielo sono formati da nude rocce che lo racchiudono da ogni parte ci rimettemmo in cammino e dieci minuti dopo raggiungemmo la gola scorsi allora una terra straordinaria oltrepassata un'altra foresta c'era una vallata ma una vallata come non ne avevo vedute mai una solitudine di pietra lunga dieci leghe scavata tra monti alti duemila metri senza un campo senza un albero a perdita d'occhio è il Niolo la patria dell'indipendenza della Corsica l'irraggiungibile cittadella da cui gli invasori non sono riusciti a cacciare i montanari mi disse chi mi accompagnava è laggiù che han trovato rifugio tutti i nostri banditi in poco tempo fummo nel fondo di quel precipizio selvaggio dotato di eccezionale bellezza non un filo d'erba, nessuna pianta solo granito, ovunque granito davanti a noi, a perdita d'occhio c'era un deserto di granito scintillante ardente come un forno per l'azione di un sole furioso che pare sospeso a bella posta sopra la gola di pietra quando si alza lo sguardo verso le cime si rimane abbacinati e stupiti sembrano rosse e frastagliate come merletti di corallo dato che ogni picco è di porfido così che il cielo sovrastante pare violetto o lilla scolorito dalla vicinanza di quelle strane montagne più in giù il granito è di un grigio scintillante e sotto i nostri piedi sembra grattato raschiato camminiamo così su una polvere luccicante alla nostra destra in un lungo solco tortuoso un torrente tumultuoso brontola e corre via vacilliamo in quel gran calore in quella luce in quella vallata infuocata arida impervia tagliata da quell'acqua turbolenta che sembra abbia fretta di scappare via non riuscendo a fecondare le rocce smarrita in quella fornace che la beve con avidità senza esserne mai penetrata e rinfrescata dall'improvviso a destra apparve una piccola croce di legno infilata in un mocchietto di pietre l'uomo era stato ucciso lì e io lo dissi al mio compagno parlatemi dei vostri banditi lui riprese ho conosciuto il più famoso il terribile Saint-Lucy e vi racconterò la sua storia suo padre era stato ucciso in una lite da un giovanotto del suo stesso paese a quanto si diceva e Saint-Lucy era rimasto solo con sua sorella era un ragazzo debole e timido di bassa statura spesso malato senza nessuna energia non dichiarò vendetta contro l'assassino del padre tutti i suoi parenti vennero a fargli visita e lo supplicarono di vendicarsi lui restava incrollabile di fronte a suppliche e minacce allora secondo l'antica costumanza corsa sua sorella indignata gli tolse i vestiti neri perché non si guidasse a portare il lutto per un morto rimasto invendicato rimase insensibile anche di fronte a tale offesa e piuttosto di staccare dal muro il fucile paterno ancora carico si rinchiusa in casa non ne uscì più non avendo il coraggio di disfidare gli sguardi sdegnosi dei giovanotti del paese trascorsero alcuni mesi sembrava che si fosse dimenticato perfino del delitto seguitava a vivere con la sorella rintanato in casa un giorno colui che era stato sospettato dell'assassinio prese moglie parve che Saint-Lucy non fosse minimamente turbato da questa notizia ma per una bravata il fidanzato mentre si recava alla chiesa volle passare davanti alla casa dei due orfani fratello e sorella stavano alla finestra mangiando dei dolcetti fritti quando il corteo nuziale sfilò davanti alla casa di colpo Saint-Lucy cominciò a tremare si alzò senza pronunciare una parola si fece il segno della croce prese il fucile appeso sopra il camino e uscì all'aperto più tardi quando raccontava il fatto diceva fui preso da non so cosa da una vampata di calore nel sangue ho sentito che era necessario farlo che non avrei saputo resistere nonostante tutto e allora sono andato a nascondere il fucile nella macchia sulla strada di corte tornò dopo un'ora a mani vuote con l'aria consueta stanco e triste la sorella credette che non ci pensasse più invece scomparve appena calò la notte quella stessa sera il suo nemico doveva andare a piedi a corte insieme ai suoi due compari di nozze camminavano cantando quando Saint-Lucy si presentò davanti a loro e fissando negli occhi l'assassino gridò è il momento poi la bruciapelo gli sparò squarciandogli il petto uno dei compari scappò un altro guardava il giovane ripetendo cosa hai fatto Saint-Lucy poi tentò di correre a corte per cercare aiuto ma Saint-Lucy gli gridò se fai ancora un passo ti spacco le gambe l'altro conoscendo la sua viltà gli disse non ne avrà il coraggio e si mosse cadde subito con la coscia spezzata da una pallottola Saint-Lucy gli si avvicinò e disse adesso esaminerò la tua ferita se non è grave ti lascio qui se moriresti distanguato ti finisco osservò la piaga stimò che fosse mortale ricaricò lentamente il fucile invitò il ferito a pregare poi gli spaccò il cranio il giorno seguente era tra le montagne e sapete che ha fatto dopo Saint-Lucy? tutta la sua famiglia venne arrestata dai gendarmi suo zio parroco sospettato di averlo indotto alla vendetta fu messo anche lui in prigione in seguito alle accuse dei parenti del morto ma riuscì a scappare prese a sua volta il fucile e raggiunse il nipote nella macchia allora Saint-Lucy uccise una dopo l'altro tutti gli accusatori dello zio strappando loro gli occhi affinché gli altri imparassero a non affermare se non ciò a cui avevano assistito di persona ammazzò tutti i componenti e gli alleati della famiglia nemica durante la sua vita uccise quattordici gendarmi appiccò il fuoco alle case dei suoi avversari e fu sino alla morte il più spietato bandito di cui ci sia rimasto il ricordo il sole stava comparendo dietro il monte Cinto e la grande ombra della montagna di granito si adagiava sul granito della vallata allungammo il passo per arrivare prima di notte al piccolo villaggio di Albertasse una specie di mucchio di pietre saldate ai fianchi di pietra della gola selvaggia pensando al bandito dissi che tremenda usanza questa vostra della vendetta il mio compagno rispose con rassegnazione che ci volete fare bisogna fare il proprio dovere e grazie a tutti